Sabrina Fine e Massimo Carandente in carcere con l'accusa di aver istigato il massacro di Altavilla Milice e di aver partecipato anche alle torture e ai omicidi di Antonella Salamone, dei piccoli Kevin ed Emanuel insieme a Giovanni Barreca e alla figlia 17enne di quest'ultimo, adesso sarebbero pronti a dare la loro versione dei fatti. Entrambi, indicati come complici sia da Barreca che dalla figlia, erano rimasti in silenzio durante l'udienza di convalida del fermo ma ora vogliono parlare e passare al contrattacco. Secondo quanto riportato dal giornale di Sicilia, Fine e Carandente vorrebbero infatti accusare il muratore 54enne, l'unica superstite della strage, di aver compiuto le atrocità nella Villa degli Orrori. I due avrebbero ammesso di essere sia entrati e usciti spesso dall'abitazione della famiglia Barreca, ma senza commettere alcun delitto. Nei prossimi giorni Marco Rocca, il loro nuovo avvocato, chiederà formalmente alla Procura di Termini Merese che vengano interrogati per raccontare la loro versione. Si tratta di rivelazioni che secondo Fine e Carandente getteranno nuova luce sulla strage di Altavilla.